Ti voglio cambiare look, vuoi rinnovare la tua immagine, il look maker Giovanni Ciacci ci prova rendendo praticamente delle vere e proprie dive chiunque voglia sentirsi rendersi protagonista. Possiamo dare il via alle immagini, prego. Ciao a tutti benvenuti, buonasera. Allora questa sera ti cambio il look, vuoi rinnovare la tua immagine, chiunque potrà essere protagonista dietro ovviamente ai tuoi saggi consigli, tanto da farli sentire anche come una diva. Certo perché tutti si devono sentire per un giorno divi, ma anche più di un giorno, anche tre, anche quattro, anche cinque, anche tutti i giorni. Quindi quale miglior occasione che i grandi centri commerciali, le piazze dei centri commerciali che sono diventate le piazze dei paesi, che sono il centro della vita cittadina di ogni posto dove c'è un centro commerciale. Un'altra iniziativa carina, la selezione per la partecipazione alla tua rubrica, Luco Consigli, oltre ovviamente a salutarti e incontrarti, no? Non ho capito la domanda. Dico, un'altra iniziativa collaterale. Ti dico, un'altra iniziativa che mi è piaciuta, la partecipazione alla selezione della rubrica Luco Consigli, oltre all'incontrarti, il meet and greet come direbbero gli inglesi, e salutarti, ovviamente il pubblico. Ah, certo, no, ma quello sì, lo sai che io giro tanto all'Italia la domenica, quindi sono abituato a stare a contatto con il pubblico, con le persone che ci guardano. Io trovo che la televisione deve uscire dallo studio televisivo, è un discorso che sto facendo da più di una volta e da un periodo di tempo lo sto portando avanti. Secondo me la televisione deve iniziare a uscire, quindi è questo. La tua verità sul malore shock, di pressione arteriosa, di stress, no? Beh, è veramente una grande fatica fisica, perché Ballando con le stelle è un programma fisicamente impegnativo, oltre che mentalmente, quindi è tutto abbastanza forte, come tutte le emozioni, come tutte le cose che si vivono in un grande show, in una prima serata del sabato sera. Poi con quella giuria che ti ritrovi, un ulteriore stress, un surplo semplice. Io come diceva la grande Giuliana De Sio, non ne posso più. Però ho anche un bel messaggio sociale, che lanci due Raimondo, quello di la coppia Sam Sexy in 78 paesi, non si è mai visto questo tipo di... Mai, mai visto, è il primo paese al mondo che lo fa, è l'Italia. Quindi siamo veramente all'avanguardia e non smetterò mai di ringraziare la Rai, non smetterò mai di ringraziare Emili Carlucci, perché ti ripeto, magari non serve a niente, magari non servirà mai a niente, però abbiamo aperto una piccola porta. E da una porta, secondo me, poi si aprirà un portone. Ma lo so di portone, dichiarato che a Sanremo ne succede un po' di tutto. Boh, ma perché solo a Sanremo? Chiedo, giusto tanto per creare il distingue, ecco, in albergo. Ma tu vai a Sanremo in vacanza o al casino? Al casino. Bravo, gioca. Senti, so che ti sei fidanzato, tu che sei un polio amoroso, un anello di brillanti, però non vedo. Ah, ecco, ecco, non c'avevi la mano. Anche lì sfaterai un altro tabù. La prima volta è un uomo che può entrare come membro di una casa reale. Allora, sono due motivi. Un cari principe, ovviamente. Sono due motivi che mi piacciono di questa storia. Uno è che per la prima volta una coppia omosessuale è dichiarata in una casa reale e non è mai successa al mondo. Secondo motivo è perché io ci gioco molto, mi diverto a provocare, ma intanto ne parliamo. Tu lo sai che fino a poco tempo fa sui siti, sui giornali Rosa, nelle televisioni Rosa, non si parlava di coppie omosessuali che avevano una relazione, a parte che tu non eri Elton John o Ricky Martin. Con me i giornali di gossip fanno gara per comprare le foto. Quindi anche questo è un messaggio per aprire un'altra piccola porta. Io sembro un po' colorato, sono un po' sopra le righe, ma tutto questo percorso che ho fatto dentro Ballando con le stelle ha tutto un senso. Chi lo vuol capire lo capisce, chi non lo vuol capire vuol dire che è sordo e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. La tua carriera in continua evoluzione, dopo Divina, Barbe e Baffi, ci sarà un romanzo il prossimo autunno. Il velo fa sposa, mi lasci il velo fa sposa, fatto con una vostra corregionale come Pinella Passero, che per me è un'altra mamma, anzi mi manca tanto in questo periodo, che sto andando poco a Cava dei Tirreni. Sto preparando il mio primo romanzo che uscirà il 31 ottobre e sarà una storia scandalosa. Quella è veramente una storia scandalosa, perché è un romanzo storico, 50% storico, 50% forse sono cose che sono capitate a me. Un po' di autobiografia ci vuole sempre. Però io sto facendo un romanzo storico in questo momento, quindi vedremo. Sicuramente è un romanzo che farà molto parlare, 50 sfumature di grigio a confronto a un romanzo da ragazzini. Ma la cosa che mi diverte, sai qual è? È che il mio romanzo lo editerà la casa editrice di Harry Potter. Una casa editrice che fino a io, e anche questa è un'altra a porta aperta, una casa editrice come la Salani, che ha editato Harry Potter, quindi romanzi per ragazzi, adesso editerà il primo romanzo dove sarà veramente scioccante. Credimi. Ti ricordi Cento colpi di spazzola? E' Peppa Pig a confronto. Senti, Valeria Marina è qui tu. Sta bene, grazie. Devi tanto, no? Come l'hai vista sull'isola, anche se ha fatto una sorta di cammeo per dirla in chiave cinematografica, e soprattutto sempre non se ne può più di queste accuse di omofobia. da parte dei partecipanti sull'isola. Ma perché Valeria è stata sull'isola? Sì. Io guardo solo il grande fratello. Un sogno, l'adozione di un figlio da singolo. Beh sì, quella è un'altra battaglia che mi piacerebbe molto fare, ma... Io mi piacerebbe tanto adottare un bambino, però questo è un percorso che è molto lungo e vediamo, vediamo. Sarà la mia prossima battaglia sicuramente questa. E chiudiamo, so che vuoi fare il subret su un palco chef. Sì, sì, voglio fare il subret, l'ho già detto a Francesco Pingitore, io voglio fare il primo subret della storia del teatro Salone Margherita al Bagaglino e voglio come partner Valeria Marina e Pamela Prati. Con te come non si può non parlare di gossip? So che al Bani Romina li hai visti uno sguardo tenero, di complicità, di tornequine... L'hai vista tutta Italia, non c'ero solo io, c'era 6 milioni davanti alle telecamere. Si torneranno insieme, vabbè, tu che sei molto più perspicace, tanti anni... Se due si guardano davanti a una telecamera, colpa è mia, poi dico che sono stato io a raccontarlo. Io ero nel programma, anzi tra l'altro ti racconto questa cosa che non è mai uscita. Io quando mi son sentito male, mi aveva Romina regalato il cuore. Sai il cuore quello lì rosso che ci aveva con Albano che ci giocava? Romina mi aveva appena regalato il cuore. Io stavo facendo un'intervista davanti alla telecamera e accanto c'era Albano e Romina che facevano altre interviste mentre mi stavo accasciando. L'ultima immagine che mi ricordo è Albano che corre verso di me e Romina che mi toglie questo cuore di corsa perché pensavo che stavo cascando a terra poi come sono caduto. Però mi fa ridere questa cosa che sono svenuto tra Albano e Romina. Per non farci i ciacci nostri, vostri, la coppia dell'estate? La mia? La tua, giustamente. Basta? Da sublimare in senso assurdo. Ah, so cosa vuoi dire. Ok, va bene, te lo dico. Lascerò Raimondo Todaro per mettermi con Stefano De Martino. Ciao. La trasmissione quanto un po'. Ecco questa e basta. La trasmissione di protagonisti, un saluto col tuo stile. Ciao protagonisti, ciao. Grazie.